Quando abbiamo avuto la scursione, la madre, il giorno prima, con tutti i maracani, e poi abbiamo avuto la scursione, c'era qui, la casa, e la mia madre, e la mia madre, che era amico. Come faccia? Perché è santi, canile. E' domanda, per me canile. E la madre, che faccia facciare, perché la mia madre, aveva caso 9 amici, che non ne rispondia. Manco lì non mannava, non niente. E arriva questa scursione, arriva, ci diceva, usava, me ne chieda, te ne vai? E' da marito? E' buono, salvato. Allora, dovete arrivare a manco, come oggi, non abbiamo dato come una mano.